Allora, io lo faccio però dovete darmi una mano. So che non tutti sanno l'inglese, è un pezzo complesso, un testo difficile, però questo è per tutti. Il film l'hanno visto tutti, chi l'avete visto? Tutti. Quindi dicevamo, fa più o meno così. La 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 la... Ricordo tutti i suoi e lì rischi colorano. Quindi si viene mag causing me, and I don't know you're in a sleep with my trouble, don't know you're more fun. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti